Ciao a tutti e ben ritrovati, oggi andremo a vedere come si fa una query di accolamento e faremo anche la query di eliminazione. Andiamo sul database che abbiamo utilizzato l'ultima volta e che lo trovate in descrizione se lo volete scaricare per fare qualche test. E praticamente cosa ho cambiato? Praticamente ho messo che la tabella compilano i bambini, ci ho messo l'underscore Italia e poi ne ho creato un'altra con l'underscore America. Se noi andiamo sulle proprietà della query di creazione, noi qui vediamo che praticamente ho cambiato e ho messo che prende tutte le informazioni dalla tabella d'Italia e poi va a creare la tabella nel nostro database esterno e poi riviene collegata su questo database. Adesso noi andremo ad accodare dei dati in questa tabella perché vogliamo accodare anche i dati di America. Allora facciamo sempre il menu Crea, facciamo Struttura Query, ci tiriamo dentro la tabellina dell'America, tiriamo giù l'asterisco. Ovviamente quando andate ad accodare dei dati dovete sempre avere tutti i campi che andate a selezionare nella query devono essere ovviamente presenti nella tabella altrimenti la cosa non funziona. Qui andiamo sempre sulla finestra delle proprietà e mettiamo lo 0 sul timeout così non avremo mai nessun tipo di problema. Poi la salviamo, ad esempio qui potremmo fare la stessa, ci diamo una regola, ad esempio facciamo un bel salva, ci diamo lo stesso nome e alla fine ci mettiamo accoda. Potreste mettere anche un 11 qui per dare la sequenza giusta in modo da averla ordinata. Quando compare così ovviamente compare una query di selezione quindi prendiamo il suo accodamento e qui ci dice dove vuoi accodare questi dati. Dato che noi qui abbiamo la query accodata, scusate la query collegata che arriva dall'altro database, non serve che prendiamo da altra database e andiamo a selezionare il database, non serve perché tanto ce l'abbiamo già nel nostro database collegata e quindi possiamo tranquillamente utilizzare la tabella che è dentro al nostro database. Se non fosse collegata qui ovviamente dovremmo anche in questo caso selezionare l'altro database. Premiamolo ok, gli diamo un'altra salva e vedete che qui compare il più, quindi il più verde significa che è una query di accodamento. Se noi facciamo tasto destro qui e facciamo ordina per e ci mettiamo a z, ok vedete che prima mi dà l'accodamento, no? Quindi potenzialmente potremmo mettere anche un 11, però attenzione se noi facciamo tasto destro, una cosa che non vi aveva detto è fate ordinamento per e mettete l'ordinamento a z o za, dovete anche dirgli che tipo di ordinamento dare. Qui lo dà per tipo, quindi l'ordinamento lo fa per il tipo, il tipo è accodamento, creazione, selezione e così via. Quindi se volete veramente avere un ordinamento completo per nome mettete nome. Perfetto, adesso lui fa l'ordinamento per nome. Se noi qui ci mettiamo ad esempio, adesso per modificarla dobbiamo chiuderla, ci mettiamo un 11, ok? Vedete che abbiamo l'ordinamento corretto perché prima deve eseguirsi questa e poi si deve eseguire quella di accodamento. Poi diciamo che in questi casi qua io metto proprio il numero vicino, vicino, vicino perché così quando vado a cercare la 10 vedo che ce n'è subito una subito dopo e ha il numero consecutivo quindi significa che è esattamente lo stesso processo. Comunque qui sta anche a voi darvi un po' la regola che meglio credete utile per voi. Quindi diciamo che se io vado ad eseguire questa, vado a scrivere dei record. Quindi se vediamo questa, vedete che io qui ho due record. Se poi vado ad eseguire anche quella di accodamento, lei andrà poi ad eseguire appunto l'accodamento dei record che ci sono su America, che sono questi tre. Se noi di fatti apriamo questa, adesso ne abbiamo 5 di record. Ovviamente se rilancio l'accodamento, e poi qui faccio F5, riscrive ancora gli stessi dati. Quindi sempre attenti a non andare a riscrivere le stesse cose più di una volta, insomma. Ipotizziamo che vogliamo inserire solo alcuni di questi campi. Quindi anche qui si fa drag and drop dei campi che ci interessano, tipo questi due qua. E sotto, vedete, rispetto alla qualità di selezione, c'è accoda A. Quindi noi gli diciamo che il campo nome deve essere accodato al campo nome. Ipotizziamo che la tabella america ha l'intestazione di campo in inglese, names, age. Ok, ci fermiamo qua. Quando noi andiamo a fare la query di accodamento e tiriamo giù questi due nomi qua, ok, se c'è l'asterisco lui va in ordine, quindi il primo campo lo accoda al primo, al secondo e così via. Se mettiamo i nomi, vedete che su accoda A lui non riesce a capire dove deve accodare il campo names, perché non lo trova. Allora lì lo dobbiamo specificare noi. Selezioniamo e mettiamo che deve scriverlo su nome. Age lo deve mettere su età. Ok, quindi anche se abbiamo nomi di campi differenti, però il layout, quindi le informazioni nel suo contenuto, sono compatibili, sono corrette per essere inserite, possiamo fare anche degli aggiustamenti. Quindi da qui possiamo sempre vedere, se vedete bianco vuol dire che non l'ha trovato, dovete indicarlo voi. Quindi facciamo così, la salviamo. Ecco che quando noi la eseguiamo, ovviamente inseriamo i dati, andiamo a vedere, vedete che praticamente mi ha accodati un'altra volta, avevamo preso i primi due campi. Ipotizziamo che adesso la vogliamo svuotare questa tabella, perché prima di eseguire quella di creazione e di accodamento, vogliamo sempre andare a pulire la tabella che avevamo creato in origine. Quindi facciamo sempre nel menu Crea, Struttura, Query e qui gli diciamo Query di eliminazione. Quindi premiamo direttamente questo bottone qua e ci tiriamo dentro la tabella collegata. Possiamo fare anche queste cose qua, tirarci dentro gli oggetti collegati e lavorare appunto con essi. Qui vogliamo svuotarla completamente, ok? La tiriamo giù con l'asterisco e qui dice Da. Ok? Quindi lasciamo così e lui cancella praticamente tutto. Se vogliamo ci possiamo mettere anche dei criteri, perché magari vogliamo cancellare dei specifici record, magari dove c'è scritto Federico, ok? Quindi fa dove, ok? Ci mettiamo Federico. Quindi se io eseguo questa cosa qua andrà a cancellare questi tre record. Vedete, ho fatto il visualizza. Se faccio eseguo invece proprio lì va ad eliminare. Quindi se entriamo qua, vedete Federico non c'è più. Se invece non ci mettiamo il criterio, ovviamente la salviamo anche, e facciamo A e dato che dovremo eliminarla prima di andare a eseguire le altre due, vedete che gli spazi, i dieci spazi che abbiamo messo sono stati utili. Facciamo 005, elimina dati, ok? Anche qui adesso per far veloce facciamo così. Ci mettiamo sempre il nome della tabella, che così è sempre un riferimento, ok? E in fondo ci mettiamo elimina, elimina, ok? Così è chiaro. Perfetto, magari qui ci possiamo mettere un nome, un nome che così avvicina, si sa questo è un processo unico che non avrà mai query in mezzo, ok? Quindi quando eseguiremo questa lui andrà a svuotare tutta la tabella, ok? Potenzialmente con questo tipo di attività potremo trasformare quella di creazione in accodamento, perché inizialmente noi avevamo fatto la query di creazione per crearci la tabella nell'altro database, quindi adesso che l'abbiamo creata potenzialmente potremmo fare tutte query di accodamento, vedete? Quindi la trasformiamo, facciamo un salva, anche questo diventa di accodamento, perché tanto la tabella esiste. Vedete? Io eseguo e ce l'ho. Quando inserisco ce li ho tutti e due, accodati, sia l'Italia che l'America. Quindi questi sono un po' i giochetti che potete fare con la creazione e gli accodamenti quando dovete fare questo tipo di attività. Bene, direi che con questa lezione è tutto. Nella prossima andremo a vedere come si aggiornano i record all'interno, cioè il testo che sta all'interno dei nostri record. E poi ho aggiunto due lezioni in cui andremo a vedere come si fa anche una query di unione, che era una cosa importante che avevo dimenticato, e vedremo anche come fare una query a campi incrociati. Quindi prenderemo il dato verticalizzato e lo metteremo spalmato in orizzontale. Come sempre, se la risorsa vi è stata di vostro gradimento, condividetela nei vostri social, mettete magari anche un commento che preferite, lasciate un like al video, iscrivetevi se non siete iscritti, e vi ringrazio molto per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao! Ciao! Grazie a tutti